Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi so che molti di voi che stanno guardando questo video sono completamente nuovi su questo canale perché è un argomento che ho trattato un po' poco, cioè praticamente le basi della chitarra. Sostanzialmente l'inizio, come si mettono le dita sulla chitarra, come si fanno gli accordi, quelli più semplici in assoluto. Spero però che possa venire utile a tutti e magari anche agli insegnanti che gli linkano il video e comunque magari per i ragazzi che avete a lezione può essere utile appunto per muovere i primi passi. Allora partiamo con una spiegazione di tutto quello che sono gli accordi semplici, quindi senza il barret, proprio quelli super 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 easy e niente, sigla e poi vi spiego. Parto con un grosso grazie a studenti musicali.net che ha reso possibile la realizzazione di questi video perché mi sono fatto mandare queste due chitarre acustiche che si chiamano il marchio Savanna. Sono due chitarre acustiche molto molto semplici ma secondo me ottime per chi inizia e questo è il motivo appunto per cui ve le porto sul canale. Il modello esatto di questa è SGD10MS. In sostanza la forma è quella di una Dregnaut, che non riuscirò mai a pronunciarlo giusto però è quella e lo dico appunto a beneficio di chi magari non suona ancora. La chitarra questa qua acustica si chiama Dregnaut. Ha una verniciatura satinata, secondo me molto comoda, soprattutto sul manico, il che la rende una bella scelta secondo me perché nel momento in cui il manico è comodo vi viene voglia di suonare. L'altra che vedete laggiù in fondo, magari ve ne parlo meglio, fatemelo sapere nei commenti. Come sempre mettete mi piace per supportare questa tipologia di video. Dicevo se ve la devo far ascoltare ditemelo nei commenti qua sotto. È una versione un po' diversa, un'altra forma con anche l'amplificazione, il contrario di questa. Costa poco poco di più però ha un pochino di funzionalità in più appunto. Fatemelo sapere nei commenti se volete ve ne parlo. Allora, tornando a noi, dunque, questa chitarra qua, dicevo, ottima per iniziare, ottima per iniziare a vedere i primi accordi. Non parliamo del barré quest'oggi e ne parleremo nelle prossime settimane con calma. Oggi parliamo di quelli che sono gli accordi più semplici, cioè Do, Re, Mi, Sol e La. E dai, andiamo sullo strumento che vi spiego con calma. Per la spiegazione andrò in ordine, quindi la prima nota che tutti conoscono è il Do. Partiamo dal Do. La prima cosa molto importante è andare a mettere correttamente il dito dietro alla tastiera. Quello che vi consiglio è di fare un bel ok e di posizionarlo all'incirca alla metà del manico, più o meno così. Sostanzialmente davanti o meglio dietro al secondo tasto. Vedete che spunta appena appena. Lo potete far spuntare ma non fatele fare questa roba qua. Non mettetelo parallelo al manico, semplicemente lo mettete come se faceste ok, bam, qua dietro. Dopodiché fate avanzare la mano in questa maniera e quello che si viene a creare qua in mezzo è dello spazio. Come potete vedere tra la mia mano e il manico c'è un po' di spazio. Questo è molto importante perché in questa maniera riuscite a appunto far arrivare le dita in questo modo, facendo questa curva, e appunto non andate a toccare corde che non volete toccare. Il mio consiglio è quello di non sottovalutare questo punto perché tutto quello che verrà sarà appunto costruito su queste fondamenta. Per cui dito dietro, ve lo ripeto ancora una volta, pollicione dietro al secondo tasto, tra il primo e il secondo più o meno come potete vedere, e mano che si spinge in avanti e arcuatura delle dita di modo da appunto andare correttamente sulla tastiera. Il do si costruisce in questa maniera. Primo dito sulla seconda corda, primo tasto. Mettetela più possibile vicino a questa roba qua verticale che si chiama ferretto. Stessa cosa, va a premere vicino al ferretto questa volta sulla quarta corda al secondo tasto. Le corde sono numerate con un numero progressivo dalla prima che è la più sottile alla stessa che è la più spessa. Quindi primo dito qua, secondo dito qua, il terzo dito invece va a finire qua sopra, cioè sulla penultima corda, la quinta, al terzo tasto. Quel che vi sto facendo vedere adesso non è l'accordo più facile di tutti. Ve lo faccio vedere per prima perché tutti vogliono partire dal do, tutti dicono cavolo il do è la prima nota, non è necessario partire con un ordine. L'importante secondo me è invece cercare di essere il più possibile comodi. Per cui riproviamo un attimo questa posizione, la suoniamo insieme ma poi passiamo al mi minore. Dicevamo primo dito, primo tasto della seconda corda, secondo dito qua, al secondo tasto della quarta e il terzo dito invece al terzo tasto della quinta. Suoniamo tutto. E' abbastanza scomodo questo cordo, lo so, non vi spaventate voi che siete dall'altra parte in questo momento. Saltiamo un attimo il re, lo recuperiamo tra l'attimo e andiamo al mi minore. Il mi minore è l'accordo in assoluto più semplice di tutti perché sostanzialmente è un accordo che si fa con due dita. Lo chiamo sempre con i miei allievi, specie quelli più piccolini, l'accordo delle corna perché sostanzialmente quello che si va a fare è questo. Ora, vi consiglio di mettere il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda e il terzo dito sul secondo tasto della quarta corda, in questo modo. Di nuovo, mi raccomando, pollice bene basso qua, di nuovo verso la metà del manico e mano che fa questa curvatura. Il suono risultante è questo. Al contrario di prima, qua sto plettrando tutte le corde con la mano destra. Per il momento non abbiamo ancora parlato, magari ne parliamo più avanti. Comunque, in generale, plettro in mano tra due dita, dalla sesta corda andiamo in giù. Per fare questo movimento non siate scattosi perché se suonate scattoso avete un suono scattoso, duro. Al contrario dovete essere morbidi. Mettete qua e fate questo, una corda per volta. Ora fatelo un pochetto più veloce. Questo è il suono giusto. E' un po' triste questo accordo perché si chiama Mi minore, però se andiamo ad aggiungere semplicemente una sola nota, cioè l'indice, non muovete nulla, accordo delle corna, così andate invece a mettere l'indice sul primo tasto della terza corda. Vedete? Ho aggiunto questo, suonate. E avete completamente un altro effetto. Cioè il suono diventa maggiore e in sostanza diventa un po' più allegro. Allegro. Triste. Facciamo un passo indietro e torniamo al re che appunto abbiamo lasciato un attimo da parte. Come potete vedere da questa posizione, proprio guardandola così, sembra più un casino degli altri perché ha tutte le dita vicine, tutte appiccicate, quella sul secondo tasto, su tutte e due, prima, terza corda, sembra un casino. In realtà non è vero niente. Vi faccio vedere da vicino. Medio, quindi il secondo dito, al secondo tasto della prima. E qua attenzione perché ovviamente dovete far stare due dita all'interno di un tasto per cui dovete lasciare un po' di spazio. Il medio, quindi, andrà a premere la corda vicino al ferretto, come detto prima, e l'indice sarà subito un pochino più indietro, altrimenti non ci stiamo. L'anulare, infine, va a premere sul terzo tasto della seconda corda. Il trucchetto qua, e c'è un trucchetto, è quello di non tenere le dita perfettamente perpendicolari, proprio vedete, proprio come se arrivassero, loro stanno guardando verso l'alto in questo momento. In realtà non è così, devono stare un pochetto girate verso di voi e quindi devono appunto guardare in questa direzione. Attenzione quando fate questo lavoro di giraggio che dovete appunto evitare assolutamente una cosa che vi ho detto finora, cioè di andare a toccare qua sotto il manico. Dovete comunque riuscire a creare un angolo che a questo punto, questa curva appunto, non sarà dritta in questo modo, ma andrà ad iscriversi sul lato. Quindi comunque attenzione a lasciare spazio, lasciare luce qua in mezzo. Nel momento in cui sbagliate, andate a sostanzialmente appoggiare tutta questa parte di mano al manico, quello che succede è che tutte le corde vengono premute male e non suona più nulla. Quindi ricordatevi, mano che fa l'arco in questo senso e poi, attenzione, mano che gira appena appena con le dita che iniziano a guardare verso di voi, ma non tocca assolutamente in nessun punto il manico, cioè qua c'è sempre luce, qua c'è sempre spazio. Attenzione a questa cosa, se no salta tutto il discorso che abbiamo fatto finora. Sbagliato. Giusto. Nel momento in cui premete così, è tutto sbagliato e lo vedete perché dietro, vedete qua, ho lasciato una luce, però questa luce non la vedete perché io sono tutto appiccicato al manico. Al contrario, se faccio fare la curva, ecco che la luce spunta fuori. Sbagliato. Giusto. Tenete sempre a mente questo trucchetto della luce, cioè sostanzialmente ci deve essere luce, ci deve passare forse anche il vostro mignolo sotto alle dita, di modo da avere appunto l'angolazione corretta per finire correttamente sulle corde e non avere questo problema qua di corde che non suonano. Re minore. Il Re minore è un accordo un po' diverso. Possiamo suonarlo sia in questo modo, sia in questo modo, Cosa cambia esattamente? Nel primo caso ho usato il mignolo, lasciando libero l'anulare, è un po' più complicato. Però in realtà semplifica molto delle operazioni, specie sui cambi di accordo. Al contrario, se io faccio questo, è un po' più semplice apparentemente. Però, secondo me, dopo vi crea alcune problematiche. Allora, la questione è proprio di scelta e di vostra abitudine. Non è un grosso problema. Il punto principale, però, che vi posso dire è, ok, fate la scelta che volete, quindi anulare o mignolo. Non ve l'ho detto, però è primo dito sulla prima corda, primo tasto, secondo dito, terza corda, secondo tasto e terzo o quarto dito, quindi anulare o mignolo, sul terzo tasto della seconda corda. Ricordatevi sempre l'angolo, vedete che qua sotto ci passa la mia mano, il mio dito, scusate. Tutto questo per dirvi che gli accordi vi possono dare possibilità di scelta. In linea di massima vanno fatti, come vi ho detto finora, però a volte si può cambiare. Collegandomi a questo discorso di cambio di posizione, vi posso dire che anche il mi minore che vi ho fatto vedere prima, l'accordo delle corna, può essere preso anche con il primo e secondo dito. Oppure con addirittura gli ultimi due. È assolutamente identico. La scelta sta a voi E dipende da quello sostanzialmente che andate a suonare dopo, ma magari ne parliamo anche di questo in un altro video. Abbiamo visto il do, abbiamo visto il re, abbiamo visto il mi, manca il fa, che però non trattiamo questa volta perché c'entra il barré e lo guarderemo a parte. Magari facciamo anche un video sugli accordi semplificati, fatemelo sapere anche questo in descrizione. Poi c'è il sol. Allora il sol è un altro accordo che ci lascia un po' di spazio. Il mio consiglio è di suonarlo con terzo dito sul terzo tasto della prima corda, primo dito sul secondo tasto della quinta e terzo dito, quindi il medio, sul terzo tasto della sesta corda. E qua, state tranquilli, suonate tutto. Una domanda però che potreste volermi fare è, ma devo sempre plettrare, cioè devo sempre colpire con il plettro tutte le corde? La risposta è no. A seconda dell'accordo che andate a fare, dovete stare un po' attenti. Esempio, torniamo indietro al primo accordo che abbiamo visto oggi, do. Facciamo il do. Attenzione qua, non ho plettrato, non ho fatto suonare l'ultima corda. Sentite il perché, ve lo faccio al contrario che rende tutto più chiaro. Quest'ultima nota mangia tutto il suono, cioè... Non va bene. Alla stessa maniera sul re. Di nuovo, quindi do e re, non dovete suonare, non dovete, non dovete suonare assolutamente l'ultima corda. Come si fa? Allora, un trucco è stoppare col pollice, ma è un po' complicato, però adesso lascia testare. Vi consiglio di non suonarla, semplicemente con la destra. Partite dalla quinta E siete a posto. Dopo do e re c'è il mi. Sia sul mi maggiore che sul mi minore potete suonare tutte le corde. Il fa non lo consideriamo che oggi non se ne parla. E arriviamo finalmente al sol, dove di nuovo suoniamo tutte le corde. Sempre parlando di sol, vi posso dire che ci sono due modi di farlo. Il primo è quello classico. L'altro invece prevede una piccola variazione sul tema. Cioè praticamente mettiamo al posto del solo terzo dito sul terzo tasto, primo dito sul secondo tasto, e secondo dito sul terzo tasto, rispettivamente di prima, quinta e sesta corda. Dicevo a questo punto, ci andiamo invece a cambiare una posizione. L'anulare va su di una corda e il mignolo invece subentra sul terzo tasto della prima. Tutto sto casino per dirvi di mettere gli ultimi due dita, terzo e quarto dito qua sotto, primo dito al suo posto, al secondo tasto della quinta corda, e terzo dito al terzo tasto della sesta. C'è una leggera differenza di suono tra questo e questo. Quello un po' più complicato che prevede l'utilizzo di tutte e quattro le dita della mano sinistra è un suono, è un sol, un pochino più pop, per adesso definiamolo così. Vanno bene entrambi, ma provate a farli entrambi, secondo me col tempo vi innamorerete di questo. Ultimo accordo di oggi, la maggiore. Non prevede che suoniate l'ultima corda, ma semplicemente che andiate a premere lo stesso tasto su tre corde diverse. Vi faccio vedere da vicino. Abbiamo soltanto il secondo tasto in gioco, vi consiglio primo dito, secondo e terzo, tutti sul secondo tasto rispettivamente di quarta, terza e seconda corda. Non suoniamo l'ultima e quello che otteniamo è questo. Se non ci stanno, come nel mio caso, non ci stanno le dita, il mio consiglio è di far lasciare libero il primo dito e sostanzialmente far scalare indietro di una corda tutte le altre, quindi questo sale su di un piano, il secondo dito e il terzo pure. Le spostiamo un po' indietro, lasciamo lo spazio al mignolo. Nuovamente, occhio alla posizione, cercate pollice dietro e mano che fa una bella curva. Infine, ultimo accordo di oggi, ma non meno importante, la minore. Il la minore è un accordo che di nuovo è molto simile a quello che abbiamo appena fatto, ve lo faccio vedere da vicino. Primo dito sul primo tasto della seconda corda, poi secondo dito, secondo tasto della quarta, infine terzo dito, secondo tasto della terza. Sentite che ha subito un piglio un po' più triste rispetto a quello di prima. Quindi triste, la minore, allegro, la maggiore. Triste, allegro. Dunque, ricapitolando, quello che dovete fare è imparare le singole posizioni di ogni accordo e questa ovviamente è la cosa più importante. Se non vi ricordate come farle, vi faccio vedere un esercizio al volo, poi magari ne facciamo un pochino in un altro video, però in sostanza quello che vi consiglio di fare è questo. Prendete per esempio il Do. Ok, lo faccio. tolgo, appoggio la mano sulla gamba e attenzione, questo è importantissimo perché così non avete la posizione memorizzata proprio nella mano. Di nuovo, Do. Via. Do. Via. Re. Via. La minore. Via. La minore di nuovo. La minore. Lo fate finché non vi viene comodo più che altro. Se vedete che io alzo il pollice qua sopra, c'è un motivo. Lo uso per stoppare l'ultima corda, però se siete all'inizio, in realtà ve lo sconsiglio. Lasciatela piuttosto a suonare a vuoto e poi più avanti, quando sarete un po' più bravi, vi guardate uno dei tutorial che arrivano poi e vi spiego tutte queste cose in più. Quindi dicevo, prima di tutto imparare le posizioni degli accordi singoli. State sempre attenti alla posizione anche della mano sinistra, quindi cercate di tenerla giustamente un po' arcuata, dietro il pollice nella posizione corretta e siete a posto. Siamo giunti alla fine, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, soprattutto magari fatevi un giro su strumentimusicali.net per guardare queste belle chitarre, perché se state iniziando in questo momento possono essere veramente una scelta ottima, perché, ripeto, la cosa più importante di tutte, oltre al buon suono che hanno, è sicuramente la comodità e la qualità dal punto di vista della costruzione del manico. Fatemi sapere nei commenti se volete che provi anche l'altra che c'è qua dietro, che è amplificata, quindi si può anche volendo collegare al mixer. E niente, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo. video, ciao!